Allora, buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di Nagisa, spero di pronunciare nella maniera giusta, di Takeshi Kogahara, film giapponese che ha avuto già presentazioni in vari festival e sarò, anzi sarò assistito, sarò completamente nelle mani di Marina Spagnolo che tradurrà quello che il regista dirà rispetto alle nostre domande. Come ho sempre detto, mi piacerebbe iniziare sempre dalla sala, che qualcuno avesse voglia di iniziare la conferenza stampa perché altrimenti io sono costretto a fare delle domande epocali, assolutamente irrilevanti, che però servono a sbloccare il ghiaccio. Quindi se qualcuno volesse cominciare, se c'è qualche mano alzata, nessuno ha il coraggio. Quindi inizio io. Allora, intanto vorrei sapere da Takeshi Kogahara l'impressione che ha avuto nel venire in questo festival, se era la sua prima volta in Italia con il suo film e che tipo di ambiente, di situazione ha rilevato, se ci sono differenze con i festival internazionali che ha frequentato con la sua opera. Hi, I'm Takeshi Kogahara. And first of all, thank you so much for having me here at the Torino Film Festival. And I'm so glad to be here. You know, I mean, this is my second time to be in Italy, but I never been to, I mean, Torino or like any place like in mainland. I mean, Italy. I just mean to only the Sicily only, so like I didn't know anything about here and like it was really great journey to me to get here. And yeah, I participated in some other film festivals like San Sebastian and Tokyo International. And yeah, I mean, all this, like every time like I participated in film festivals, like I got a great like inspirations like from other directors, especially like a new directors like me and you know, how hard they work on their first feature films, how many years they spend and stuff. And this time too, like a Torino Film Festival is like really known for the first time feature film directors. I mean, they compete in the main competition. So like I'm really looking forward to meeting all these like new directors and like getting some inspiration and like stimulations from, I mean, each other. Yeah. Intanto voglio ringraziare il Torino Film Festival per avermi invitato qui con il mio film. Sono davvero molto, molto, molto lieto, contento di essere qui con la mia opera prima. È la seconda volta che vengo in Italia, ma in passato sono stato soltanto in Sicilia e quindi è la prima volta che vengo qui a Torino ed è stato veramente un bellissimo viaggio da intraprendere per arrivare al Torino Film Festival. Ho partecipato con il mio film ad altri festival, per esempio al Festival di San Sebastian oppure al Tokyo International Festival. E dai festival si respira un'aria davvero molto inebriante perché fornisce grande ispirazione soprattutto quella che si può trarre incontrando altri registi, soprattutto gli esordienti, quelli che approcciano i loro film per la prima, seconda o terza volta per capire quali sono le loro difficoltà, quanti anni sono necessari per realizzare, produrre e distribuire un film, l'apporto dei finanziamenti per realizzare un film. Quindi essere qui a Torino per me è estremamente importante proprio perché so che tradizionalmente il Torino Film Festival è proprio una finestra sul lavoro dei giovani registi esordienti o semi esordienti. Quindi sarò veramente molto felice di incontrarli, conoscerli e parlare con loro. Domande? Proseguo io. Allora, volevo sapere dal nostro regista come nasce questo progetto, le difficoltà che ha incontrato, se ci sono stati gli inevitabili compromessi produttivi, magari l'idea poteva essere troppo difficile per chi ha accettato di produrre questa sua opera prima. La difficoltà di accettare un'opera prima. Quali sono le difficoltà di lavorare nel tuo primo film? Ok, quindi la prima cosa che mi ricorda è il tempo. Ovviamente non avevamo abbastanza di budget. è la prima volta in questo film film che non avevamo abbastanza di budget. L'unica cosa che possiamo capire questo problema è rendere il tempo di produrre. Quindi abbiamo fatto questo in meno di due settimane, in 12 giorni o 13 giorni o qualcosa di così. Quindi non avevamo abbastanza di tempo per fare le preparazioni. Quindi non avevamo abbastanza di tempo per la preparazione. Quindi questo è stato un problema più difficile che ho avuto. ma grazie per tutte le persone che hanno lavorato con me. Si, 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 lavorano per libero in loro tempo. E siamo preparati insieme per aiutare. Quindi è così che abbiamo solito questo problema. Sì, penso. La prima cosa che mi viene in mente rispetto alle difficoltà è proprio il vincolo del tempo. Proprio per riuscire a utilizzare il piccolo budget che avevamo a disposizione abbiamo dovuto ovviamente limitare il tempo da dedicare alle riprese. quindi è stata veramente un'avventura molto breve. Meno di due settimane dedicate alle riprese. 12 o 13 giorni in totale. E purtroppo non è stato sufficiente. Nel senso che a livello di preparazione del film, a livello di preproduzione avere un po' più di tempo ci avrebbe davvero aiutato. Credo che questo sia stato il vincolo principale che ho incontrato. Il problema principale. Però per fortuna ho lavorato con tanti collaboratori che hanno offerto il loro tempo gratuitamente e quando potevano nel loro tempo libero hanno collaborato con me e questo sicuramente si è rivelato utilissimo. Intanto faccio un commento personale. Complimenti perché due settimane per girare un film di tale qualità è veramente sorprendente. Oh, thank you so much, grazie. E poi vorrei sapere se c'è dal... Niente, non c'è una domanda, quindi continuo io. Allora, Nagisa è un nome di una ragazza che è sorella del protagonista del film. Sono due ragazzi che vengono da un lutto. La loro situazione esistenziale di fratelli ormai privi di un riferimento genitoriale provoca una dimensione psicologica tra di loro difficile, tant'è vero che uno dei due in pratica si vuole separare e cambia città. però nel frattempo succede un altro evento luttuoso che procura a questo protagonista un profondo senso di colpa. Ecco, io vorrei sapere se questo film si innesta in un contesto di film di genere o è un film di matrice psicologica, cioè un film sull'elaborazione del lutto, in questo caso di un doppio lutto. Quali puoi fare una brevemente, come si elaborate il mourning e il suffering? Ok... I think I kinda... When I wrote this script, I... As I, like, you know, making a revision over and over, I started to feel that I wanna... First of all, like, I wanted to focus on just the psychological, you know, the story or theme between the brother and the sister. So make it more like a modern time, like a real, like a story, not like a genre, horror or something like that, or like even a ghost. Like, I never really wanted to write anything about the ghost and stuff, but like, I mean, I mean... So over the revisions that I made, I started to feel that I... Like, what if I make the story, like, you know, the gen... I mean, the tone of the story, it just keeps changing from the beginning to the end. What it's gonna be like if I make the stories, like a tone of the story, like keep changing from the top to the end. Then I saw in the beginning, feels more like a genre movie, like a horror or like, you know, feels like something's gonna happen, like we might see the ghost somewhere or something like that. But later on, we started seeing, you know, the backstories, like what was really happening between the brother and sister. It's like a kind of saddish, like feeling that a tone of the, you know, the social, like, movie was... So the genre is kind of keep changing. So in the end, we see that it's more like kind of spiritual or like a psychological, like, kind of world we feel in the film. So that's how I kind of set it up, the story, I mean, the structure of the story. So, I mean, yeah, that's how I get to the final, like that structure of the film. Yeah. When I started working on the scene, I thought, I thought, before, that we would have to be a psychological film, that would have faced the problems of the relationship between this brother and this sister. But I wanted to have a much more modern approach. and I thought, therefore, I didn't want to make a movie of genre. I didn't want to make a movie of genre, I didn't want to make a movie of genre or not. And I thought, therefore, that, that, keeping the tone of the story very far from what is the classic idea of genre, E cambiando quindi costantemente il modo di raccontare la storia del film forse sarei riuscito proprio a conseguire questo risultato. Quindi se all'inizio potrebbe sembrare un film horror o un film di fantasmi ho pensato di modificare la struttura del film passando ad indagare il rapporto tra il fratello e la sorella, ad indagare le questioni sociali che si verificano in Giappone. E ho pensato che approcciando il film in questo modo mi sarei allontanato totalmente dai film di genere. Quindi questo è stato il mio modo di strutturare la storia. Domande? Perfetto. A question. Io avrei una curiosità... Potresti presentarti un... Sono Emilio Sciamanna del blog del CineDance. Avrei una curiosità legata all'utilizzo dei colori nel film, di due colori in particolare. Il primo è il rosso, che risulta evidente su una fotografia molto buia, molto cupa, in particolar modo ad esempio nelle scene del tunnel. Questa luce rossa è sempre molto presente, molto penetrante, quasi invade la fotografia. E l'altro colore è ovviamente il blu, che viene citato in ben due occasioni, sia nel racconto per bambini, che ovviamente nella campana che costruiscono i due protagonisti alla fine del film. Volevo sapere se avevano un significato particolare l'utilizzo di questi due colori. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. per alcuni di pubblici come si sono stati basso in cui si sono stati di pubblico o di più di bambini quindi si è dipendente per alcuni pubblici non per alcuni pubblici non penso che il film è ma sì è stato un'impressione che ho fatto dal pubblico in Tokyo e che era la prima domanda? La prima domanda è l'inspiration Inspirazione. Inspirazione che ho ricevuto da altri film che hanno fatto è che sono inspirato da i film koreici, invece di i japonici, che mi sento. E oggi, Ii Chandon, mi piace molto di tutti i film. E' un'unico speciale director per me. e anche per lavorare su questo film, Nagisa, ho visto il Peppermint Candy, Peppermint, Peppermint, Peppermint Candy, ho visto un po' di più. Ho visto un po' di più, ma ho visto un po' di più, ma ho visto un po' di altri film, anche un po' di Korea, anche un po' di first time director di film. Ho visto il Pusan International Film Festival, ho visto un po' di Pusan, Pusan International Film Festival, tre anni fa o qualcosa, ho visto i nuovi film di direttori, quindi ho ho visto un po' di tutti questi direttori e i film dei filmi. Penso che sono più into i koreali, mi sembra. What was the name of the festival? Pusan, Pusan. Pusan? Pusan. Comincio col dirvi che il mio film non è ancora stato distribuito in Giappone, siamo ancora in conversazione con i potenziali distributori e mi auguro proprio che il prossimo anno possa trovare una distribuzione. ho potuto mostrare il mio film solo al Tokyo International Film Festival e quindi è molto importante l'accoglienza a questo festival per poter trovare la potenziale distribuzione in Giappone. è fondamentale per me frequentare i festival proprio per cercare di capire se c'è uno spazio per me per trovare il modo di presentare il mio lavoro agli altri e anche per questo qui a Torino voglio capire anche da voi cosa ne pensate, come avete reagito alla visione del film. sono importantissime per me le critiche, le recensioni che il film ottiene e da quello che ho capito finora frequentando appunto il festival di Tokyo è che il mio film è piuttosto diverso rispetto a quelli che sono i film mainstream che vengono distribuiti. Rispetto alle ispirazioni cinematografiche posso dire che più dei registi giapponesi mi ispirano i registi coreani, quindi film coreani. Considero Ichan Don davvero un regista molto molto particolare e speciale per me e nel momento in cui ho iniziato a lavorare su una ghisa ho rivisto che avevo già appunto visto anni addietro Peppermint Candy che appunto è stato molto importante. Inoltre ai festival ho avuto modo di vedere i lavori di tanti giovani registi, di tanti esordienti e questo anche mi ha ispirato molto, soprattutto tre anni fa quando sono andato al festival di Pusan. Benissimo, auguriamo a Takeshi Kogahara il più grandi successi internazionali e anche locali a questo punto, anche in Giappone e ringrazio Marina Spagnolo che è stata assolutamente indispensabile. Grazie a tutti. Grazie.